Una mostra antologica per raccontare una vita professionale dedicata alla fotografia. Il Museo di Roma in Trastevero Maggia Lisetta Carmi, reporter genovese classe 1924, capace con i suoi scatti di anticipare i tempi realizzando un percorso artistico caratterizzato dall'uso innovativo del medium fotografico, forte di circa 170 immagini senza dimenticare una videointervista e tre nuclei di lavori concepiti come progetti di pubblicazione su altrettanti temi molto diversi fra loro, l'esposizione curata da Giovanni Battista Martini e la prima retrospettiva dedicata all'artista organizzata a Roma. Sono ben 14 le sezioni che scandiscono un percorso in cui emergono alcuni temi che hanno caratterizzato il vissuto della Carmi, da Genova alla sua città natale, alla Sicilia, dai travestiti conosciuti a fondo in Liguria, alla musica, passione autentica per lei, pianista di talento destinata ad interrompere la propria carriera musicale agli albori degli anni 60 per dedicarsi a tempo pieno alla fotografia. Un'esistenza non semplice la sua, condizionata soprattutto da quelle origini ebraiche, causa di tanti dolori. Si pensa all'impossibilità di concludere gli studi liceali per via dell'avvento delle leggi razziali del 1938. Sono delle immagini da un punto di vista formale, estetico, impeccabili, ma non è perché lei ha ricercato questo valore nell'immagine, è venuto spontaneo. Gli scatti esposti, puntualmente in bianco e nero, non di grandissime dimensioni, pongono in primo piano personaggi e ambienti differenti, a prescindere dagli argomenti trattati, una fotografa come la Carmi ha cercato soprattutto di evidenziare la bellezza della verità, proprio come il titolo dell'allestimento visitabile fino al 3 marzo.